salve gente siamo alla seconda puntata della serie hashtag bannati allora l'altra volta avevano bannato l'hashtag illuminati adesso andiamo a vedere che hashtag youtube è riuscito a bannare allora sulla destra vedete qui il video in questione sulla sinistra in alto la il video all'interno del mio youtube creator lo studio e sotto metto l'ora così per i controllini di sono sempre in giro allora vedete nel video questo qui a destra i tre hashtag sopra il titolo cospiratori coronavirus è il mio nome al mio canale ma io qui ne avevo messo un altro prima che è questo complottismo cioè complottismo non lo accetta l'altra volta avevo messo illuminati ok salviamo e aggiorniamo il video e come vedete né illuminati né complottismo appare qui sopra il titolo quindi illuminati lo possiamo cancellare e quindi complottismo come vedete non viene accettato proviamo con complotto salviamo aggiorniamo il video eh complotto lo accetta complottismo no complotti abbiamo con complotti aggiorniamo il video nemmeno complotti cioè complotto lo accetta e complotti no sapete cosa facciamo mettiamo complotto salviamo aggiorniamo e lo lasciamo così ok quindi sappiate che illuminati complotti e complottismo sono hashtag che youtube non vuole ci vediamo al prossimo video ciao ciao